Continua a proteggerci. Non lasciare che l'armata di Crota eluda le difese della mente bellica. O i discepoli di Crota invaderanno il mondo. Grazie a tutti. Non è solito accogliere gli ospiti. Trova la sala di controllo. L'alveare. Sono riusciti ad entrare. Non lasciare che raggiungano Rasputin. Un'alveare. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Accertati che l'alveare non abbia distrutto Rasputin Qualcosa non quadra Omnigull Mettila a tacere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti